3. 3. Il 1 1 1 1 2 1 1 No! No! Aspetta! Seguro che è un arbollio, eh? Un arbollio, arbollio E' un borbole, che cosa è? La fruta, no? Oh, la fruta, no? Che è un po' diario Che è carino, mi chiamo Che è un po' di più 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 Comunque Marro Guarda, 20 centimetri più qua Guarda com'è più liscio ben in su Eccola Che è un po' dià Grazie a tutti 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 Sei stato bravo a tirare la frizione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti